Fari i conti con l'ambiente, siamo con Umberto Torelli del Corriere della Sera, un gradito ritorno, un nostro ospite, moderatore di un convegno questa mattina a cui chiuso di... Vai, vai, scusami. E' l'appetito, eh. Fari i conti con l'ambiente, siamo con Umberto Torelli, Corriere della Sera, moderatore, gradito ospite della nostra manifestazione, questa mattina Premi Ambiente. Parliamo un po' di questa mattinata. La mattinata sostanzialmente si è svolta puntando il dito e l'obiettivo su quelli che sono i lavori verdi, quindi tutti i lavori legati alla green economy, alla possibilità, allo sviluppo. In un momento di crisi come questo possono rivelarsi un'opportunità e soprattutto, come dire, devono guardare a quello che si potrà fare più avanti. Si parla di lavori legati al web, quindi a tutti quelli che in qualche modo vanno sui social network, guardano l'identità digitale delle persone. Molti lavori saranno legati agli anziani, alla terza età, molti sono legati anche al discorso di avvocati, come guardare verso le leggi del futuro e come lavorare anche come avvocati sul web. E poi ci sono tutte le ciberprofessioni legate all'insegnamento. L'insegnamento e la formazione si spostano online, c'è bisogno di professori che sappiano gestire contenuti digitali e tutoring online, quindi sul web. Questa mattina abbiamo parlato anche di innovazione con dei premi veri e propri, se non erro. Sì, ci sono stati dei premi, in particolare un premio d'onore, ma l'azienda Ravennate che sta contribuendo per il recupero del Concordia. E poi ci sono stati i premi alle tre classi che in qualche modo hanno, come dire, presentato dei lavori sia su saggi giornalistici che su dei piccoli progetti di come riconvertire la scuola. Grazie Umberto. Buona giornata a tutti. A te grazie.